Dottore, vi spiego. L'umanità è lo divisi in due categorie di persone, uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza, quella dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sembra nell'ombra grigia un'assistenza grana. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maldrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno, li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza rena l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro tacce nostre e la loro prepotenza. Caporali si nasce, non si diventa, a qualunque ceto essi appartengono, di qualunque nazione si siano, ci faccia caso, hanno tutti la stessa faccia, le stesse espressioni, gli stessi modi, pensano tutti a me stesso. E hai privilegiato, diciamo, le canzoni, le sonorità, e poi in un secondo momento venivano... E in cabina è il DJ Nico di LP. Nico di LP. La sua definizione è esatta. Il lavoro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque. Non ce ne avevo mai pensato. Lo vede, dottore? Sono pazzo? Pazzo? Più saggio di così, si rischia di impartire. Questo. Allora? Sì. Ti sto malo, che devo fare? E anche questa è fatta. Meno male però, che nessuno può impedire di sottolineare. Tu oramai è un repertorio, insomma, discretamente là. Oggi facevamo due ponti. La sua camisa è un repertorio. in canzone, spero di esserci riuscire. Potenziali, questo è il un canale feroso. Potenziali, questo è il nostro canale. Torniamo a suonare. Sono due forme di scrittura comunque diverse, ce lo siamo detti spesso. Molto bene, adesso mi sembra tutto pronto per andare al Gran Bar. Ciao. 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 Ciao.